Buonasera ai nostri telespettatori per ritrovarti all'appuntamento con Il Fatto, continuiamo ad occuparci delle prossime elezioni amministrative ed in particolare in questi giorni stiamo accendendo riflettori sulla sfida elettorale di Monte Silvano. Ospite nei nostri studi l'esponente della Lega Anthony Aliano, buonasera Aliano. Buonasera, grazie Carmine per avermi invitato. Allora, fino a qualche giorno fa lei sarebbe stato qui in questa trasmissione, quale candidata sindaco della Lega, in un contesto che però era diverso. In queste ultime ore il centrodestra ha trovato la sintesi, Anthony Aliano non è più candidato per la Lega, non sarà nemmeno candidato consigliere comunale, ma tutto nell'ottica di una ricomposizione avvenuta attorno al sindaco uscente e ricandidato a questo punto da tutto il centrodestra Ottavio De Martinis. Aliano, cosa è successo in questi ultimi giorni, in queste ultime ore? In queste ultime ore sicuramente la Lega ha dimostrato nuovamente di avere uno spirito di coalizione, eleganza e direi anche buonsenso, chiedendo nuovamente a me come candidato indicato dal sottosegretario d'Eramo, che ringrazio per la stima, che è reciproca peraltro, di fare un passo indietro per ricomporre un centrodestra che non poteva andare disunito. Noi abbiamo dimostrato negli anni e nel tempo di tenere molto alla unione della coalizione, tant'è che se lo ricordi io mi dimisi un paio di anni e mezzo fa spontaneamente proprio per ricomporre un centrodestra che era diviso a causa di alcuni componenti di Fratelli d'Italia che legittimamente ambivano a partecipare la giunta comunale. Mi dimisi anche per consentire all'attuale sindaco e presidente della provincia, proprio di essere candidato come presidente della provincia e poi essere eletto, quindi è uno spirito quello della coalizione che ci appartiene senza dubbio. Ma cosa è accaduto per motivare poi nello specifico la decisione della Lega di fare un passo indietro? Ma semplicemente abbiamo compreso che andare divisi significava ledere il centrodestra, probabilmente con la mia candidatura al sindaco per la Lega e per la Civica che avevamo già pronti avremmo potuto determinare addirittura una divisione così importante che avrebbe a sua volta avuto l'effetto di non consentire al centrodestra di vincere il primo turno, quindi abbiamo pensato che la soluzione migliore proprio perché siamo responsabili fosse quella di riunirci e ricompattarci con un mio passo indietro, mio, insomma del partito che come mi ha chiesto di essere candidato, di avere la disponibilità alla candidatura, poi mi ha chiesto allo stesso modo di poter fare un passo indietro nell'ottica dell'unità del centrodestra che ho accettato mio buon grado. Sempre per essere chiari nei confronti dei telespettatori e degli elettori, cosa invece non vi convinceva prima nell'approccio che c'era stato a questa sfida elettorale? Semplicemente abbiamo pensato che sicuramente De Martinis aveva assunto un indirizzo diverso da quello del nostro partito, aveva determinato anche documentalmente nelle elezioni regionali, oltre che quelle politiche precedenti di un anno prima, di avere un interesse ad un indirizzo politico diverso da quello della Lega, questo è stato registrato da parte del partito, il quale potendo scegliere il proprio candidato sul territorio per competenza, per distribuzione territoriale, aveva deciso che il miglior candidato potevo essere io, a quel punto lo abbiamo fatto presente, abbiamo capito che De Martinis aveva lavorato bene con gli altri partiti, in ogni caso la coalizione sul territorio aveva lavorato bene, quindi hanno insistito affinché l'uscente rimanesse fermo sulla sua posizione, sulla sua candidatura e noi in questo abbiamo cercato un po' di comprendere le ragioni degli alleati, fin quando poi a un certo punto abbiamo compreso che c'era un divario così troppo ampio che qualcuno doveva prima o poi fare un passo indietro e alla fine l'abbiamo fatto noi. Ciò non vi eviterà comunque di fare una battaglia elettorale molto forte per assicurare alla Lega un risultato di prestigio a Montesilvano, quale sarà la vostra lista? Le chiedo anche se i cittadini che volevano candidarsi in quella civica, a suo sostegno, saranno pronti comunque a scendere in campo alle elezioni? Abbiamo unito le forze, abbiamo quindi a quel punto fatto una unica lista sotto il simbolo del nostro partito che è la Lega, che potrà godere di candidati di spessore come gli uscenti Presidente del Consiglio Ernesto De Vincentis, come il consigliere Nea D'Alonso, il consigliere Corrado Di Battista, più altri a volte noti in città e altri volti non noti, professionisti, imprenditori, persone della società civile, animalisti, quindi abbiamo fatto una lista competitiva, importante, con cui siamo sicuri di raggiungere un obiettivo importante per la Lega. Sempre dal punto di vista dello scenario elettorale, come vede invece l'altra coalizione, quella che si è radunata attorno ad Addazio e è composta a sua volta di forze politiche, ma anche di realtà civiche. Male, molto male, perché non hanno negli anni, se mi posso consentire, non si offendano gli amici del centro-sinistra, ma evidentemente non hanno saputo cogliere la sfida dell'opposizione, non hanno cavalcato temi, non hanno colto le imprecisazioni di chi governava, insomma sono non pervenuti negli anni. Questo ha determinato che in questo momento soffrano tantissimo a livello elettorale di presenza sul territorio, mi pare siano divisi pure tra di loro, il segretario comunale si sia dimesso dalla propria carica, non abbiano condiviso neppure la candidatura che hanno poi alla fine scelto, al di là della persona su cui non ho nulla da dire, ma evidentemente a livello politico ed elettorale direi non pervenuti. Questa che inizierà, adesso entriamo un po' più sui temi della città, Leanole è stato appunto amministrato, Montesilvano, quindi conosce bene le varie situazioni, soprattutto le chiedo a che punto è, perché questa che inizierà è l'ultima consigliatura sostanzialmente di Montesilvano in quanto città di Montesilvano, ma a che punto è realmente, dal punto di vista è una macchina amministrativa questa fusione? Guardi, ho delle grandi perplessità, le dico sinceramente, io sono un avvocato che si occupa di operazioni straordinarie, mi rendo conto di cosa significhi procedere con un'operazione straordinaria come la fusione di tre comuni, peraltro con i difetti e le complessità di una macchina amministrativa che chiaramente lo rendono più difficile il procedimento, secondo il mio punto di vista siamo molto lontani, forse andava fatto un progetto di fusione, da lì si parte e comprendere come si vogliono fondere i vari servizi, i settori, gli organigrammi, questo io francamente non l'ho riscontrato, a mio modo di vedere stiamo andando incontro a qualcosa che è indefinibile in questo momento e non basteranno i due anni o tre anni che mancano da adesso fino a quando ci siamo detti che i comuni saranno estinti, auspico che ci sia buonsenso sul punto, che si proceda con un tavolo vero di professionisti che partano da un progetto di fusione, non dall'idea semplice di fusione, staccando la spina a qualcosa che non ha ancora un cuore, un'anima e non ha ancora gli organi per poter camminare. Dal punto di vista identitario la scomparsa della parola Montesilvano è ormai una scelta irreversibile e anche a questo punto diventa anche un aspetto nostalgico per chi ci vive in questa città, per chi comunque anche appartiene ad un partito come la Lega che tiene molto alle tradizioni? Io credo che su questo punto il problema possa smarcarsi con la nascita dei municipi, non si chiamerà magari più città di Montesilvano, si chiamerà municipio di Montesilvano, questo anche a beneficio, dicevamo, quando manca un progetto di fusione, a beneficio del problema dei numeri civici per esempio, a beneficio di tutto quello che è caratterizzato dal nome Montesilvano, quindi con la nascita dei municipi il problema si risolve, si crea un nucleo centrale che è la grande Pescara, poi la chiameranno come vorranno. Come lei vorrebbe che si chiamasse? Pescara, con i municipi di Montesilvano, municipio di Castellammare, non saprei, ma sicuramente Pescara perché è la città più importante e conosciuta che abbiamo nel territorio abruzzese, è inutile negarlo. E sai che molti montesilvanesi non la pensano come lei? Ma io sono per una via di mezzo, nel senso come dico che col municipio di Montesilvano, Montesilvano continuerà a vivere, chi vivrà nel comune di Montesilvano diventerà municipio di Montesilvano, carta di identità Montesilvano, ci saranno le macro competenze, per come la vedo io la fusione, in capo al più grande soggetto che è Pescara città e poi le micro competenze specifiche sui municipi, come succede a Roma e come succede nelle grandi città metropolitane, nulla di nuovo diciamo. Abbiamo cinque minuti per raccontare, Aliano, come secondo lei dovrebbero essere sfruttati questi due anni abbondanti di nuova consigliatura, non soltanto da parte dell'amministrazione ma anche di tutto il Consiglio Comunale. Quali sono le partite più importanti per la città, proprio verso questo obiettivo del rafforzamento della realtà metropolitana? Abbandonare immediatamente l'esigenza di trasformazione in consenso delle esigenze piccole. Dei cittadini e puntare sulle cose macroscopiche, Montesilvano deve avere un'identità sua, quella identità che si porterà poi all'interno del più grande comune metropolitano, quindi bisogna puntare sulle cose macroscopiche, Montesilvano non ha un'identità in questo momento, deve diventare città città vera, io quando dicevo il Jova Beach Party che mi ha visto protagonista, sull'area del Jova Beach Party in cui abbiamo iniziato un lavoro che secondo me andrebbe esteso su tutto il litorale, significa dirsi che a Montesilvano noi dobbiamo dare quell'identità turistica che ci consenta di poter giocare un ruolo determinante all'interno del più grande comune, quindi creare quei poli attrattivi, fare un grande lavoro sul traffico, creare zone ciclopedonali a traffico pedonale esclusivo, il lungomare per noi è la vetrina più importante che abbiamo, dovremmo partire proprio da lì. con quel piccolo stralcio che ho creato con fondi peraltro privati che in questo momento rappresentano evidentemente un posto caratteristico della città di Montesilvano, puntare in grande con visione della città cercando di badare meno a quella trasformazione in consenso delle piccole esigenze dei cittadini che ti servono a livello elettorale, che servono a poco per una città che ancora deve crescere, deve fare il salto di qualità, che rischia di diventare veramente periferie e dormitorio della più grande città di Pescara. Da questo punto di vista, secondo lei, non si stanno perdendo già delle occasioni, vale a dire, per esempio c'è l'estate davanti, ci sono tanti eventi, mi viene da pensare una città come Pescara che non ha il suo teatro nemmeno all'aperto, potrebbe risolvere questi problemi anche in sinergia con Montesilvano, invece nessuno ne vuole parlare, ci sono anche delle date che spesso si accavallano, una concorrenza, c'è stata, adesso credo di no con il filobus, la questione della strada parco diventata parcheggio da una parte e invece chiusa dall'altra, insomma forse manca ancora questa mentalità, c'è una campagna elettorale forse è difficile anche parlarne. È un invito che io rivolgo ai sindaci di Montesilvano e Pescara con cui mi lega un rapporto comunque di conoscenza, amicizia e stima, quello di guardare oltre la propria città è il proprio territorio, quando si fa una programmazione, una pianificazione in funzione di qualcosa che accadrà a breve bisogna farla insieme necessariamente, non posso pensare di dedicare delle risorse per fare un'opera straordinaria sapendo che quell'opera straordinaria già esiste sul territorio di Montesilvano o di Pescara. O di sportore. O di sportore. Sediamoci, comprendiamo ciò che manca e comprendiamo dove lo vogliamo fare, uniamo le risorse e le forze e cominciamo a lavorare come se un territorio fosse unico, è inutile stare a continuare a pensare di fare un teatro o un palacongressi quando ad esempio il palacongressi sia a Montesilvano, quindi non ha senso proprio di continuare a pensare in maniera autonoma e parcellizzata. Ultima domanda però di strettissima attualità, lo sa lei che i balneatori che stanno iniziando questa stagione, lei conosce molto bene anche giuridicamente il problema, abbiano tantissime incognite davanti a loro e se la comprendano anche con i politici di tutti gli schieramenti, compresa anche quella Lega che è stata molto vicina alle loro esigenze, però non si risolve questo tema della Bolkestein. Bisogna metterci mano, il legislatore a livello nazionale deve fare il suo, anche prendendo a riferimento gli spunti e l'indirizzo giuridico che è stato offerto dal Consiglio di Stato, i comuni debbono unirsi a questa lotta, a questo procedimento, però c'è pure da dire dall'altra parte che i balneatori devono metterci dell'oro, devono dare di più, hanno preso tanto negli anni sfruttando un territorio importante della nazione Italia e del nostro territorio Abruzzo, ora devono cominciare anche a dialogare, a dare di più, a riammodernare le proprie strutture, a concepirle in chiave futura, debbono essere anche loro il motore del turismo passivo, non attivo, anche attivo di richiamo, ma soprattutto passivo di quelli che già godono della regione Abruzzo e vogliono continuare a goderne, di quello attivo come motore di richiamo, quindi debbono anche loro mettersi in condizioni di ristrutturare, ammodernare, riorganizzare, ci deve essere un patto tra le parti che consenta da una parte di perorare una causa sull'onda della linea del Consiglio di Stato e dall'altra, da parte loro, quella di riammodernare completamente le strutture e renderle attuali. A Montesilvano molte, io l'ho sempre lamentato questo, addirittura arrivano a un certo punto della sera che sono probabilmente saturi della parte economica e chiudono gli stabilimenti balneari, questo è un fatto che non può esistere, se ci deve essere un supporto deve essere da ambo le parti, un accordo tra le parti l'ho sempre cercato e continuo, come dire, ad invocarlo, mi auguro che lo facciano. Grazie, grazie, e allora buon riposo, visto che non sarà candidato a Antonio Aliano, che però immagino sarà una chimera perché sarà al fianco dei suoi candidati della Lega Montesilvano. Grazie, arrivederci, buona sera. Grazie Carmine. Grazie.